Chiamo Pasquale, vengo da San Mauro Forte, provincia di Matera, ho 27 anni, appena compiuti, vivo qui a Zurigo. Il sistema è migliore, dopo una volta che si è integrati, la Svizzera permette di progredire, permette di andare avanti e raggiungere diversi obiettivi, che a volte in Italia è difficile raggiungere. Se sei capace di integrarti, conosci il tuo lavoro, sai di poter dare di più, di voler dare di più, perché qui si lavora molto. Per risparmiare soldi, per raggiungere un obiettivo, qui si lavora molto. Agli inizi lo Svizzero ti pesa, vedi cosa sei fare, se sei fare, se sei capace, se hai interesse. Una volta che ho trovato la persona giusta, ti fa fare, ti fa fare e si fida ciecamente di te. Non pensa solo alla sua tasca, ma pensa a chi ha di fronte. Lo Svizzero capisce anche che se il dipendente è contento, è felice e soddisfatto, ti dà di più, ti rende di più. Questa cosa è che molti non la capiscono. Fare in modo che i ragazzi fin da piccoli, d'altronde quello che succede qua, vengono immessi nel mondo del lavoro, imparargli una professione e non lasciargli un po' allo sbaraglio. Non fare in modo che la gente, i ragazzi si accontentino. Fare in modo che i ragazzi vogliono sempre di più, sempre di più, in qualsiasi ambito, in ambito lavorativo, in ambito familiare. Questo per me è una cosa molto importante. Fare in modo che i ragazzi crescono a livello professionale e nel nostro piccolo essere anche dei piccoli imprenditori, perché parte tutto da noi ragazzi.